Fly, trasformati! L'ho più a me che ho un minuto per ricevere la cena! Ciao, Maria! Ciao, Marinette! Dov'è Adrien? Non restarci male, ok? Ma ha appena scritto al minuto. Dice che suo padre non lo lascia uscire. Un'altra volta... Ciao, Marinette! Che ci racconti? Come stai, Marinette? Tutto bene, grazie. Allora, sapete dov'è Andrea oggi? Il problema con Andrea il suo gelato è che non sai mai dove si posiziona. E devi seguire gli indizi per capire in quale via si trova il carretto. La prima volta che Milenne e io volevamo mangiare il suo gelato, ci abbiamo messo tre ore per trovare il carretto. Ti ricordi?